Abbiamo approvato dopo dieci anni il nuovo piano di protezione civile di Roma, è un piano molto complesso che comprende e analizza tutti i rischi che possono eventualmente abbattersi su questa città. La cosa importante è che è un piano appunto di prevenzione, quindi il lavoro della protezione civile non è solo quello di reagire immediatamente durante le emergenze ma anche quello di prevenire. Per questo abbiamo un nucleo di protezione civile che è formato non solo dai tecnici ma anche da circa 80 organizzazioni di volontari che ci aiutano durante tutto l'anno a essere sempre pronti e preparati.